vai a prendere le uova subito a volo ciao a tutti ragazzi io sono holly e io sono danny e oggi proveremo a far imbalzare questo uovo comunque ragazzi guardate queste uova sono vere ma c'erano dentro due fantastiche ok basta mentre stiamo muovendo ok vai uno due tre quindi ragazzi rimbalza davvero ciao ragazzi